Non ci si ferma qui, dobbiamo guardare oltre, sforzarci di vedere, oltre l'Oriente e l'Occidente, essere sicuri di avere la forza, di proteggere i nostri sogni. Non è per sbaglio o per casualità, che la tua scoperta realtà diventerà. Non ci si ferma qui, non stiamo ad occhi chiusi, andiamo con il cuore e con la mente, a volar lontano, e credere nelle nostre idee, e a giocare.